salve a tutti simmers benvenuti nel mio canale io sono marichelle e siamo in un video annuncio un video annuncio in cui vi devo dire che mancherò da domani fino al 20 20 21 20 comunque 21 dovrei poter pubblicare già qualcosa mancherò non potrò pubblicare video e mi dispiace la volta scorsa potevo ho potuto pubblicare perché comunque non ero proprio in vacanza ero impegnata ma comunque avvo il computer con la connessione potevo comunque mandarvi qualche video e infatti sono contentissima di essere riuscita a portarvi il let's play questa volta avrei voluto ma non posso e quindi non c'erò però il lato positivo c'è ragazzi il lato positivo c'è e ora ve lo dico in questa settimana spero di riuscire ad andare a comprarmi un nuovo computer perché voi non potete capire questo computer quanti problemi mi stia dando io per registrarmi la puntata devo faticare le pene dell'inferno per poterla coeditare per l'editing in particolare per poterla editare e tutto il resto perché il mio appunto è un portatile quindi insomma è limitato insomma portatile non neanche nuovissimo sì insomma non è male perché come vedete la qualità dei video non è male però non è proprio tra gli ultimi ultimi ma questa volta mi prenderò un computer fisso che non abbia problemi eccessivi di surriscalladamento in cui potervi fare dei video di qualità proprio super io spero super non volevo prenderlo perché non volevo appunto spendere soldi però probabilmente questo è un acquisto necessario ovviamente non solo per youtube ma per tanti motivi il mio portatilino rimarrà sempre importante per altre cose però per fare cose più un po più professionali tra virgolette ecco diciamo cose un pochettino più impegnative un computer fisso è veramente importante quindi la parte positiva c'è che dalla prossima settimana se tutto va bene i video dovrebbero migliorare moltissimo di qualità quindi è la cosa che spero questa insomma incrociate le dita assolutamente per me perché dovrebbe andare così a parte questa piccola pausa ricordate che io ci sono che se volete scrivetemi nei commentini qualcosa quando posso vi rispondo perché comunque la connessione per rispondere dei messaggi ce l'ho iscrivetevi alla pagina di facebook perché lì posso rispondere i vostri messaggi ovviamente appena potrò la sera non lo so cercherò di rispondere sempre a tutte le vostre domande a tutti i vostri messaggini appena potrò e vi avverto già da ora anche se non sarebbe necessario che ci sarà una pausa come questa fine agosto settembre però poi insomma per il resto tutto a posto quindi contattatemi pure quando volete io farò quel che posso per rimanere comunque in qualche modo in contatto con voi continuate se qualcuno sta ascoltando se ancora iscritto iscrivetevi perché arrivano arriveranno video ancora più carichi ma soprattutto con qualità superiore e chissà mai se l'audio anche sarà superiore questo non lo so non vorrei dire una scemenza quindi iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti mettete tanti 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 like a tutti i video e guardatevi la maratona adesso magari vi metto qui il link per tutte le varie playlist per chi si sta iscrivendo adesso perché vedo che stiamo crescendo quindi vi metto tanti bei link iscrivetevi commentate mettete un bel pollice in su e noi ci vediamo al prossimo video e buona settimana a tutti ciao